Il famoso cantante dei Poo, ossia Red Cancian, di recente è stato ospite di verissimo il programma condotto da Silvia Toffanin e proprio di musica o meglio di Poo si parla, infatti ha parlato della recente scomparsa che c'è stata poco tempo fa del caro amico e collega Stefano Durazio, il famoso batterista della band in questione, era una persona complice ed era una persona davvero splendida quando si è spento lui si è andato a chiudere quella che è la storia dei Poo, insomma stando alle parole di Red Cancian la storia dei Poo viene a chiudersi, viene a terminare grazie proprio alla morte, non meno grazie alla dipartita del buon Stefano Durazio personaggio di punta, uno dei personaggi di punta, ma anche di maggiore forse calibro per quanto riguarda la band chiamata I Poo manca a tutti, lo stesso Red Cancian lo dice, manca il suo sorriso, manca la sua verve, non riesco a stare sul parco senza avere lui come persona vicino a me un dolore davvero lancinante, un dolore acuto che ovviamente continua, prosegue in tutti i componenti di questa band musicale per eccellenza e che riporta lo stesso Cancian a quando perse il padre, l'amato padre bene, cioè il mare non è bene, una morte è sempre una morte, va bene? detto ciò, grazie a tutti utenti di Youtube, il video termina qua, datemi le vostre opinioni, ci tengo ad averle soffonitemi i vostri giudizi, i vostri punti di vista, un salutone caro a voi da Leandro, narratore italiano Grazie a tutti